Incontriamo qui a Lavaz Café uno dei maestri della pubblicità che ha scritto pagine fondamentali dell'industria. È un grande onore per me rincontrare e tornare a intervistare uno dei maestri in discursi di questo mestiere Jacques Seguelat. Buongiorno Jacques, benvenuto a questa edizione. Fisicamente, qui siamo insieme. E vorrei chiederti a te dire, dal tuo punto di vista, hai stato in questa industria per più di 60 anni, io diria 70 anni, hai visto tutto. Qual è la vostra idea di quello che sta succedendo e come la comunicazione si sviluppa? Tutto in azienda cambia solo una cosa che non cambia mai. E ho visto questo in 60 anni, 65 anni. Qual è la vostra idea? La definizione dell'advertising è solo una domanda. Perchare al cliente, cosa diventa la neve quando si diventa? E la risposta del cliente è l'acqua. Non, non c'è un'acqua. Non c'è un'acqua, non c'è un'acqua, non color. Quando il neve quando si diventa, per me, si diventa il vento. Per me, non c'è un'acqua, non c'è un'acqua, non c'è un'acqua. E quando il creativo dell'advertising ha la loro idea di un bambino, si va a vedere il cliente. E si dice il cliente, guarda il mio bambino. E il cliente dice, non è strategico. Stratagico, è il bambino, è stato nato. Quindi il cliente dice, prepara il cliente. Il cliente dice, prepara il cliente, prepara il cliente, e si va a vedere il cliente. Si va a vedere il cliente. Si, guarda il cliente, guarda il mio bambino, è bellissimo e strategico. Wow, dice il cliente. È assolutamente. Lassate il cliente. E pronuncia il vero il vero del vocabulario dell'advertising. E' bisogna testare, meno testare, più testi. Lo scopo. Questo è molto, molto interessante. Non si muerano. Ma sicuramente, dopo la covid, e nel medio dell'arrivo, il mondo cambiò, diversamente. E la covid ha lasciato un nuovo valore. Il nuovo valore è il rivolto alla famiglia, Il ritorno alla natura, il ritorno al valore, il ritorno alla simplicità, il ritorno alla salute, il ritorno alla parlare, il ritorno alla ammiglia e all'advertising. Il ritorno alla vita quotidiana, la vera vita, e molti sposti di oggi sono questa luce, ritorno alla poesia, il ritorno all'advertising, il ritorno all'advertising, la scienza fiction, la scienza fiction all'advertising, per tornare alla vita reale. E cosa pensate anche dal punto di vista politico, la guerra? Cosa creazione può fare per la pazza nel mondo? Penso che il solo valore del momento è l'amore. L'amore! Perché tutte le persone stanno combattendo per le idee, per le buone idee, per le buone idee, per la vita, per la buona vita, per il lavoro, per il buon boss, per il buon boss, per il buon boss. E solo l'amore può salvare il mondo. E potete combattere per questo. E' un combattere per me, per la nuova ammiglia. Come back to the real people and love. E' un'altra domanda. La transformazione digitale ha cambiato anche l'advertising. Ora parliamo di Metaverse. Avassi è molto interessato a andare più profondamente in questo tema. Cosa pensate di questa nuova frontiera dell'advertising, come Metaverse o la realtà mentali? Io ho concetto. La evoluzione. E i dati. Tutti dicono che i dati cambiano la creatività, è una nuova creatività, è il futuro. Non! Non, i dati sono solo un nuovo medio. E è la stessa cosa per MetaTati e MetaTata. Non ci sono un nuovo medio. Ma un dato senza un'idea è come una arma. Un dato senza un'idea è come una arma senza una bulleta. Lo mettiamo qui e non succede. E nulla cosa succede. Quindi più abbiamo un nuovo modo in Metaverse, in data e tutto. Più abbiamo bisogno di creatività. Non di nuova creatività. La creatività non cambia mai. Un'idea è un'idea. E' un'idea. Io ho fatto il mio primo lion, qui a Cannes. 50 anni fa. Per Citroën. Puoi mettere il suile di oggi. Il funziona. Il funziona. Il funziona e mostra la modernità. Il funziona di più. Tu intenzione di più. Il funziona di più. Il funziona di più. Il funziona di più. Il funziona di più. E la ultima cosa. Quale è un'idea per te? Quale è una creativa idea? O come è? Di dove è? Se tratta di le vostre ambitiore. Il slogan di Avaaz è è «À significato di differenza». Ma è significato di differenza. Perché significato di differenza? Perché ci sono molte idea che sono possibili per una brande. Ma hai bisogno di scelare. L'idea deve dare un senso alla brande. Le senso alla brande. sensi e sensi. E bisogna farvi 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 la nuova attenzione del consumatore, ma resta nella rauta della reale idea. La reale idea mi estonisce. Un giorno Cocteau mette in l'Opera d'Aguileff e ha detto a Guileff qual è la definizione della tua arte? E Daguileff mi è assicurato. Ah, non, è Cocteau. C'è la definizione della mia arte e ho detto al museo Cocteau è la definizione della mia arte è la definizione della advertazione. E' assicurato il mondo ogni giorno, ogni giorno. La ultima domanda. Cosa suggeriria alle nuove persone che vogliono in questa industria? Quali sono le vostre consigliere la buona agenzione. E meglio la più interessante agenzione di questa volta. Il nome è H-A-V-A-S Avast Come to see me. Grazie molto maestro. Per ADV Express è tutto dalla Croazette Can 2022 Salvatore Sagona Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.